Radio Flash e Livorno Magazine.it presentano Innamorarsi di Livorno Livorno e il suo porto di Alessandro Brunetti Decima puntata Nel 1735, morendo Gian Gastone, si estinse la dinastia dei Medici. Con la pace di Vienna, la Toscana passò ai Lorena e il Granduca fu Francesco II, che con una serie di atti economici, giuridici e amministrativi cercò di migliorare i traffici del porto. Questi traffici erano comunque già abbastanza ricchi e floridi ma il porto era in mano agli stranieri senza case commerciali e uomini di commercio propri ed esplicava principalmente la funzione di intermediario negli scambi internazionali funzionando da deposito e da base, con limitate importazioni ed esportazioni dal retroterra toscano. Ciò era molto pericoloso perché con il provvedire dei traffici e l'aumento dei costi la funzione dell'intermediario poteva decadere. Cosa che avrebbe gettato il porto di Livorno in una profonda crisi. Nel 1780 fu costruito il Lazzaretto di San Leopoldo, presso quello di San Jacopo dove attualmente sorge l'Accademia Navale, per incrementare i traffici anche con i luoghi infetti. Nel 1790 Leopoldo I fu chiamato al trono d'Austria e al Granducato gli successe Ferdinando III di Lorena. Il periodo che va dal 1796 al 1814 fu uno dei più tristi della storia livornese. Dopo alterne vicende a seguito del fermento presente in Europa, i francesi occuparono il porto di Livorno, imposero nuove gravose tasse, istituirono dazzi e provocarono il blocco della città da parte degli inglesi. Finalmente, nel 1814, cominciò per Livorno un'era nuova di pace e prosperità con la restaurazione del governo dei Lorena e quindi di Francesco III che proclamò non solo il porto ma tutta la città zona franca, cosa che non accadeva in nessun porto europeo. Potete riascoltare questa puntata in on-demand su www.livornomagazine.it